Continua a fermare. Sì, sì, ma vai, ce la fai, Grace. Questo non lo so fare. Vai su, stringendo i glutei. Devi pensare a portare i talloni verso il soffitto quando lo fai. Non lo so fare. Non lo so fare. No. Secondo me, vieni alla fine della panca. Con il bacino alla fine della panca, con le gambe fuori. Devi stare. E il sedere fuori. Esatto, così lì sei libera. Eh, sì. Porto giù e poi porto su. Porto giù e poi su. Sì, esatto. Se non faccio fino a 5, non lo so. Vai, vai. Allora. Contrai i glutei. Due? Sì. Tre? Cuantate. Quattro. Basta